L'ospedale di Praia riaprirà soltanto se vince il Sì al referendum. Questo è il concetto che è passato. Questo ha scatenato le rimostranze della popolazione all'incontro di domenica scorsa. La politica che fa è dispa, ha messo di fronte ad un out-out i cittadini su un tema fondamentale come quello della salute e lo ha fatto ancora una volta a ridosso di un impegno elettorale. Dell'ospedale di Praia si parla ormai dal 2010, ben due anni prima della riconversione e il diritto alla vita dei cittadini dell'Alto Tirreno Cosentino è stato messo sul piatto di campagne elettorali ai vari livelli con un unico risultato. Il tempo è passato tra tanti incontri, molte promesse troppe in confronto ai fatti. Ma dietro le rimostranze della popolazione non c'è solo la delusione. Ci sono morti assurde che un ospedale di frontiera come quello di Praia con le distanze dagli altri presidi avrebbe potuto evitare. C'è una rabbia logica che supera qualsiasi alibi politico anche e soprattutto in presenza di un governo nazionale in linea, almeno teoricamente, con quello regionale. Non c'è da stupirsi se i mugugni di qualche anno fa si sono trasformati in urla. Sono urla di disperazione e paura più che di rabbia. E poi ci sono le ipotesi di chissà quali giochi di potere e di favori in un settore come quello sanitario. A pensare male si fa peccato, è vero, ma negli ultimi anni agli occhi della gente è stato fatto poco o nulla e la sensazione è che la politica oggi stia scaricando addosso agli stessi elettori che fino ad oggi hanno subito il malfunzionamento della sanità la responsabilità del proprio futuro.